Grido di disperazione ed ammonimento all'umanità sia per sempre questo luogo, dove i nazisti uccisero circa un milione e mezzo di uomini, donne e bambini, principalmente ebrei, da vari paesi d'Europa. Qui, tra i boschi della Polonia Meridionale, bellezza delle foreste e bruttezza dell'animo umano si sono uniti in un surreale abbraccio. Qui attorno, madre natura continua ancora oggi imperterrita a mostrare le sue maestose meraviglie. Qui dentro, l'uomo ha mostrato il peggio di sé e tutto quello che qui l'occhio può vedere parla di crudeltà. Di annientamento, di morte, di buio. Qui e in tanti altri luoghi nel cuore dell'Europa, la ragione ha per lunghi anni perso la via, assoggettando cultura, arti, scienze e tecniche all'odio più cieco e crudele, lasciando tracce inequivocabili di quanto ogni uomo possa diventare, in pochi attimi, il peggior nemico di sé stesso. Qui i buoni hanno rinunciato all'azione, lasciando trionfare il male e macchiandosi di tutto il bene che hanno deciso di non fare. E se è vero che ognuno ha in sé inferno e paradiso, è proprio da qui, dall'inferno in terra, che deve partire il nostro viaggio, nel tentativo se non di scoprire il perché, almeno di capire, cosa è realmente accaduto. La memoria rende liberi.